Piazza Duomo affollatissima ieri sera per la spettacolare esibizione del più grande coro gospel italiano sul Sagrato della Cattedrale. 550 voci gospel provenienti da tutta Italia disposte sul Sagrato e di fronte una folla infinita di spettatori che ha riempito ieri sera Piazza del Duomo. Protagonista l'Italian Gospel Choir, il più grande coro italiano per un concerto gratuito organizzato dalla Federazione Italiana Ricerca di Musica e Arte con la collaborazione della veneranda Fabbrica del Duomo. Sul palco anche l'ideatore del progetto. Generalmente quando si parla di ideatore si deve associare un'altra parola che è pazzia, mettere insieme 500 italiani che già di per sé è un bel evento perché siamo notoriamente un po' come dire pimpanti, frizzanti, ma ovviamente abbiamo toccato la corda giusta, ovvero metterli assieme sotto una grande egida che è quella della musica. Voce solista molto black, nonché direttore del coro Alessandro Pozzetto, impegnato in un compito tutt'altro che facile. Devo riuscire in un colpo solo a mettere insieme tutti gli intenti dei ragazzi, questa è la difficoltà, però in questo sta anche la magia. Ospite d'onore del concerto, Donald Lawrence, noto artista della scena gospel americana contemporanea.